Ciao a tutti ragazzi, sono Carly e Cimmia è sul divano Benvenuti in questo nuovissimo video della vita in città, credo sia l'episodio 10 L'ultima volta ci siamo lasciati con la trappola di marci da finire Ma gli devo anche andare a chiedere delle monete d'argento in più Quindi andiamo subito da lui E... oh c'è una nuova missione, leggiamola Allora, l'era glaciale, wow L'inverno, credo sia, è arrivato I villager del biome innevato ti chiedono di procurargli la pelliccia calda degli orsi Nooo, non gli orsi Ricava 6 per pelliccia d'orso, 2 livelli avventuriere e una moneta d'argento Oh mio dio, non gli orsi Allora, marci si trova ai negozi che sono qua Uh, per fortuna c'è un po' di speed Dovremmo fare molto molto presto Semplicemente devo chiedere un po' di monetine d'argento in più E poi dobbiamo andare anche da Steff e Fere Eccolo qua, marci Marci, aspetta da scappare Marci 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 Perché scappa? Ti ho rincorso per 20 miglia Scusami, buongiorno, buongiorno Buongiorno, allora io le devo chiedere 5 monetine d'argento in più Perché mi sono dimenticata che XIA vuole far pagare il doppio adesso Ah, è vero che XIA è diventato uno strozzino adesso Uno strozzino, cos'è che è diventato? Eh, sì, sì, guarda, non ti dico neanche il significato Va bene così No, semplicemente chiede troppi soldi adesso Sì, questo è vero, questo è vero Però è di 5, giusto? A posto Sì, credo di sì, non ci ho guardato Mi fido Ok, va bene, va bene Grazie, aspetterò la tratta Va bene, arriverà molto presto Ciao, marci Ciao E adesso scriviamo anche a Steph e Fer Andiamo da loro e chiediamo intanto le Shadow Jammer Che abbiamo delle monete in più E finalmente possiamo fare Stammi la larga Maledetto Figlio del demonio Ti stiamo Sì, pronto? Sander Scusi, dovrei parlare con Carli Magari potete spostarvi Buonasera Ciao a tutti Buongiorno Buongiorno Allora, prima che il mio computer esplodesse Vi volevo chiedere due Shadow Jammer Ok, due Shadow Jammer Li abbiamo Ti ricordi il prezzo? Dieci l'una Ok Allora Chiave Apriamo Due Da qui Questo lo posso richiudere Adesso Devo togliere il magnete Bravo Disattivalo, Fer Eh, come si disattiva? Lascialo sulla X Ok Perché in base a cosa clicchi fa altri di disastri Capite? Ce l'abbiamo fatta Fer e riattivalo Perfetto Ok E poi vi devo dare Purtroppo Tantissime monete E torno di nuovo povera Ah, ok Per le Shadow Almeno che tu me le voglia dare gratis Non lo so Non credo Non credo Però Va bene Il mio compito qua è concluso Non ho altro da chiedervi Allora Ascolta un attimo Oh, dammi buone notizie Io non ce la posso fare Ti volevo commissionare un bel po' di roba Sì Evviva Però Come cavolo facciamo? Allora, ti do un sacco di ferro E vedi quante trappole riesci a fare? Sì, va bene, vai Però aspetta Forse mi servono più le rallentanti che gli spuntoni Eh, serve la resina per quelle Devo chiedere a Xiao Però Però tanto ne ha Allora, facciamo così Io ti lascio i soldi che mi hai dato I venti di argento Ok 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 Vedi quante trappole rallentanti riesci a farti fare E in più Ti lascio altre Eh, facciamo Quattro shadow gem Per il risultato di far magnete E vedi E vedi E vedi Aspettate, ci sono Vai Quindi sarebbero altre due trappole arciere Dove io ti devo dare a livello di soldi Tra Xiao e gli archi 8 di argento 8 di argento 8 di argento l'una No, perché Aspetta Sono 28 più 5 Sono 33 3 meno 20 Sono 13 monete di argento E quindi Oggi è stata attenta È matematica Un totale di Quindi adesso il totale 33 di argento Ci togli 20 delle shadow gem Oh, ma non eri tu il bambino Delle elementari Che prendeva 10 Ma non ho capito L'uomo prezzo di Xiao Tieni Le riprese Una trappole arciere E quante ne riesco a fare Di quelle e quella resina Due trappole arciere Due trappole arciere Due trappole arciere Esatto Andiamo Ok Va bene Ce la possiamo fare Grazie mille Ciao Attendo un attimo Qua in linea Devo craftare un attimo Una trappola Così mi tolgo Una commissione importante No, ma io in realtà Devo soltanto commissionarti Una trappola di quelle arciere Appunto Aspetta un attimo Vabbè, scusa Allora, intanto prepara 33 monete di argento Quante? 33 monete di argento Mamma mia Eh, ragazzi I prezzi sono aumentati Cosa vi devo dire? Oh, sei cara Pure tu Altro che Vabbè Guarda, te l'ho già pagata Tieni Perfetto Grazie mille C'è tutto? Sei ricca adesso Sì, c'è tutto C'è tutto Ho quasi Quasi Una moneta d'argento Quasi Doro Eh, d'oro Sì, d'oro Tu al decimo episodio Hai già una moneta d'oro Se vuoi commissionarmi Un'altra trappola Un'altra trappola Va bene No, no, no Una basta Evanza Va bene così Oh, allora Un attimo Un attimo di attesa Prima devo craftare quella di Marci Poi devo chiedere Un'altra legna Xiao Quindi non riuscirò a fartela avere Per questo episodio Sicuro Capito? Vabbè, allora ciao Allora ciao Ciao, 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 ciao Dunque, finché ci siamo Craftiamo la trappola per Marci Allora Uno, due Ok Una torretta per Marci È stata fatta Adesso devo fare altre tre Buongiorno Eccoci Eccoci Allora, signore Io le devo chiedere Quante Quanta resina hai? Allora, io ho in questo momento Quattordici pezzi Fantastico Quattordici pezzi Quanto veniva? Aspetta È uno d'argento È la resina Appso Ti servirebbero delle foglie Ok Dovrei averle in teoria Però forse ancora a casa Vediamo Eh, sì, ce l'ho a casa Però te le vado a prendere Ok E dei blocchi d'erba Non so se No, non te ne occupi più, vero? Dei blocchi d'erba No, mi sa di no No, mi sa di no Perché non ho silt C'è roba del genere Quindi no Ok, va bene Allora intanto ti chiedo Le foglie e la resina Dieci Dovrebbero essere Boh, forse undici Te ne ho dati Non lo so Sì, me ne ho dati Vabbè, te ne do un indietro Così sono dieci Quindi uno, due, tre Quattro, cinque, sei Sette, otto, nove, dieci Perfetto, così Ok E poi le foglie Le foglie Te le vado a prendere Allora Queste sono dodici di bronzo A foglia Esatto, 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 esatto E quante te ne servono? Allora, aspetta che devo fare un cazzo Oddio Cosa è qua? Guarda, guarda come flexa Ah, noi poverelli 20 di resto di bronzo Sì, dovrei averla Sì, ce l'ho Perché hanno il borsellino Lo sai che sono un po' povera E non ce l'ho il borsellino Ancora non ce l'hai? Eh, no, non l'ho preso Tieni Ok Bene E perfetto Vado a prenderti le foglie Torno subito Sì, perfetto Grazie mille Arrivo Ciao, ciao, ciao Allora, per la trappola Mi serve Che dovrebbe averlo Mark Esatto I blocchi d'erba E Ok Così dovrebbe andare bene Allora, adesso aspettiamo Xiao E così dovrebbero venirci fuori Sette trappole No, mi servono altri blocchi di terra Eccoci qua E qui Carli Subito al volo Tieni le tue 40 Foglie Perfetto Siamo a posto Sì, direi che siamo a posto Ok, perfetto Tu hai già pagato Grazie mille Sì, 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 sì Mi hai già pagato Ok, grazie Ciao Xiao Ciao, ciao Allora, adesso che abbiamo tutte le cose necessarie Possiamo fare le trappole per Steph Mi sono fatta cambiare anche un po' di soldini da Kendall Finché c'eravamo Allora, facciamo così Così Uno e due E fatto Perfetto Ne abbiamo dieci E adesso gliele portiamo E poi per le torrette Non credo di riuscire a farcela in questo episodio Perché appunto Ci serve Xiao Ho già messo via le trappole a Steph e Fer Qua in casa Perché hanno una cassetta postale E quindi Trappole rallentanti le ho fatte Adesso mancherebbero le torrette Sia per Steph e Fer Sia per Kendall Però il problema è appunto Come sempre la legna Quindi io direi di lasciare un attimo in sospeso Questione trappole E proporrei Intanto di fare La missione Che ci serve Allora Siccome mi sono scocciata Di farmi scambiare sempre le monete Andiamo a prenderci un borsellino Che credo sia giù per di là Signore Mi vende il suo miglior borsellino Ok Credo sia questo Va bene A sto punto ne vale la pena Perché basta Ok Finalmente ho capito l'utilità del borsellino Ha senso averlo Allora Ci prendiamo Cosa possiamo prenderci? Quello che costa meno Questo qua Due Tre Quattro E cinque Dai Ho speso cento Di bronzo Per questo sugo di carne Allora direi che dopo ciò Possiamo Andare a cercare Gli orsi Anche se Preferirei che fosse giorno Aia Basta Dove sei? Via Sparisci Brutto Due Tre Ok Morto Oh finalmente è giorno Che bello Allora Vediamo dove sono queste coordinate 3 6 3 6 6 9 5 8 Dai non sono difficili Allora dovrebbe essere Se non sbaglio Giù per di qua Vediamo Ho una paura tremenda di morire Invece ce lo dobbiamo fare Allora dobbiamo ricevere Sei Mi sembra 6 pelle di orso Ok pellice d'orso Oh eccolo 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 E' lui E' lui E' lui E' lui E' lui E' lui E qua ce n'è un altro Ok allora dobbiamo un attimo Mangiare la nostra Zuppetta scadente Uno E due E andiamo ad attaccare Eccoli Sono tutti qua Andiamo ad attaccarli Oddio ma Mi attacca a prescindere Prima ancora che lo attaccassi Pausa un attimo Di rigenerazione Devo mangiare Ok Oddio speriamo che droppi Già tutte le cose Perché 7 Ok Quanti gli ha avute 3 e 4 Ok Allora mi manca solamente lui Devo prendere almeno 6 Avanti Attaccami Attaccami 5 6 7 8 Muori Ok Oh mio dio Non ho molta vita Per fortuna Il dado È tratto Vediamo Ok ne abbiamo 6 e 2 Perfetto Allora posso riscattare la missione Fatto Livello avventuriero 9 E ho guadagnato una moneta di argento Che adesso metto nel mio borsellino Ecco qua Perfetto Ok direi di andare Perché ho pure che gli altri orsi mi attacchino Là c'è un altro che sta dormendo Andiamocene via subitissimo Ok siamo tornati qua ai villaggi Adesso io direi che Per la prossima volta dobbiamo craftare le nuove trappole Che ci sono state commissionate E basta direi Anche oggi abbiamo fatto il nostro durissimo compito da trappolatrice Ragazzi spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto Da carrile da nocimia sul divano È tutto Noi ci vediamo prossimamente con un altro video Ciao Ciao